Benvenuti a tutti all'ultimo incontro di quest'anno di Nerofrizzante in attesa di Torino, Salone del Libro, dove andremo come ospiti, ma è un'altra storia. Gli incontri nel nostro istituto finiscono oggi con Beatrice Masini, a cui va il nostro grande applauso. È stato un anno ricchissimo di incontri, siamo sicuri che chiuderemo in bellezza oggi con questa chiacchierata e iniziamo subito, lasceremo fra poco la parola ad Arianna ed Edoardo che presenteranno l'incontro, ma prima, come ormai sapete tutti da tradizione, dei ragazzi del nostro gruppo hanno preparato un video, una sorta di book trailer per presentare l'incontro e per dare il nostro benvenuto a Beatrice Masini. Quindi ci godiamo questo minuto e mezzo circa di video e buon pomeriggio e buon incontro a tutti. Grazie. Si era avvicinato alla panchina con le mani in tasca, come uno che si trova lì per caso, sicuro di passare inosservato. Mi fatti, ed era stato l'unico che credeva ad accorgersi della lumaca, piccola, perfetta, il guscio di un giallo stupefacente, che camminava allo spigolo del muretto con precisione assoluta. Veloce come sanno essere le lumache quando si decidono a muoversi. Un anno prima, un secolo prima, l'avrebbero guardato insieme, vicini, mescolando i respiri meglio che in un bacio. Se lo ricordava ancora il suo odore. Non buono, non cattivo. Il suo. E adesso, invece di guardarla in faccia, tanto la sapeva tutta. Come si arricciavano i capelli più brevi sull'orlo della fronte, la tinta esatta di castagna degli occhi, quel dischetto di varicella sulla tempia. Fissava il guscio giallo, avviato con ostinazione verso la brevità del suo destino. Con la coda dell'occhio, quel giallo in trassito, e, senza pensare, si chinò a centrarlo con un colpo preciso dell'indice partito dal pollice come un grilletto. Un tonfo d'uovo, e la lumaca sparì dentro il guscio che rotolava a terra. Eugenia, allora, si spinse via dal dorso della panchina e saltò a piedi uniti, atterrando precisa sul facile bersaglio. Lui ne avvertì il frantumarsi come nella propria carne. Le schegge che entravano nel burro del corpo, tagliando i nervi. Che schifo, disse Rosa. E poi, con un accenno di rimprovero, poverina. Eugenia alzò le spalle e scipulì i resti delle suole sullo spigolo del muretto, contro il filo di bava luminosa. Poi risagli al suo posto. I ragazzi subito ridevano. Poi smisero di colpo. Poi risero ancora. Lui capì tutto in un lampo. Ma certo, non era lei. Quella vera l'avevano tenuta prigioniera al nord e avevano mandato sull'isola una coppia gonfiata per fare un esperimento. Se ne era accorto solo lui dello scambio, nemmeno i suoi genitori. I grandi diventano ciechi a volte. Ma sarebbe bastato dirlo per aggiustare le cose. Far rispedire indietro col primo aliscafo la falsogenia, in cambio ottenere quella vera, liberata da una squadra speciale, lui in testa a guidare le operazioni. Oppure era solo prigioniera di una buccia brutta da sbaccare, sbattendola contro una roccia senza troppe apietà, come succede a volte nelle fiabe. Far male per far bene. Lui sentiva di avercela tutta dentro, la rabbia per riuscirci. Debole. Forte. Debole. E alla fine sarebbe stato esausto come un cavaliere dopo l'impresa. E lei sarebbe uscita dal guscio umida come un pulcino. Più piccola, meno liscia, più imperfetta. Quella di prima. Allora, per cominciare volevamo chiederle questo. Lei è una scrittrice molto affermata nella narrativa per ragazzi. Infatti ci stupiva come i protagonisti del libro siano comunque bambini, ragazzi, ma il libro non sia assolutamente per bambini. E quindi volevamo chiedere il perché di questa scelta e anche di queste storie molto dure che ha raccontato. Allora, intanto, buonasera, ciao a tutti, grazie per essere qui. Sì, in effetti nella scrittura per bambini e per ragazzi non ci sta proprio tutto. C'è uno degli assunti ormai che si danno per scontati è che nei libri per bambini si può parlare di tutto, ed è vero, di qualunque tema, di qualunque argomento, anche scottante, anche difficile, poi però ti devi fermare. Non sono i temi, il problema è il modo. Quindi quando scrivi per bambini e per ragazzi non puoi dimenticarti che là davanti a un certo punto questo bambino, questo ragazzo c'è, bene o male modelli anche la scrittura, il tono sul destinatario, un pochino. C'è chi lo fa moltissimo, dipende un po' dalla poetica che uno ha. Io già lo faccio abbastanza poco, infatti i miei libri per bambini sono un po' considerati difficili, qualche volta, mediamente difficili, ma proprio tutto tutto non ci sta. La differenza sostanziale fra un libro per bambini e un libro su bambini è che il libro per bambini cerca di assumere un punto di vista bambino, quindi quello che un bambino vede del mondo, che è molto misurato proprio sulla sua taglia, quindi un bambino piccolo vede un pezzo di mondo, uno spicchio di mondo che è proporzionato alla sua altezza e quindi quello che gli interessa, quello che le interessa è nel raggio di quello sguardo, le altre cose sono meno importanti. Via via che cresci il tuo raggio si amplia. Molti libri per bambini assumono la prima persona, quindi un racconto in prima persona in cui un bambino dice di sé, dei propri sentimenti, dei propri problemi e così via. Quello che mi interessava però a fare qui è, anche qui a volte assumo dei punti di vista bambini, però guardo da alcuni passi indietro e lo sguardo è comunque adulto sul mondo dei bambini, quindi la differenza grossa è proprio questa, c'erano delle storie che non andavano bene raccontate esclusivamente per bambini, alcune in qualche modo forse semplificate dal punto di vista proprio della forma potrebbero anche funzionare. Adesso i titoli non me li ricordo, ma insomma per esempio quella della guerra di questa famiglia che trova una casa in cui poi arriva la guerra a dividere, a cambiare, a trasformare. Fra l'altro quella mi è venuta in mente in due, per dire, gli spunti poi sono molto sottili a volte. Da una parte a partire dalla lettura di un libro di un altro scrittore che è Wuming 4, che è un libro per ragazzi che si intitola Il piccolo regno e che è ambientato più o meno in quell'epoca, anche se qui siamo in Italia, là siamo in Inghilterra, però insomma ci sono dei fili che tornano. E poi è ispirato a un'altra cosa che è una foto, una foto che ho visto in rete, che rappresenta una sorta di, non è una casa di bambole, perché è una casa di giochi sicuramente, cioè una casa con due piani, ma due piani per bambini, sulla soglia sono sedute due bimbe e c'è un ragazzo molto più grande di loro, avrà 16-17 anni, che è appoggiato con una mano al frontone e quindi la casa arriva alla sua altezza, questo è un ragazzo piuttosto alto, quindi la sua testa è sopra, sarà un 80 l'altezza. E mi piaceva quest'idea della sproporzione e del fatto che in una casa ci sono misure diverse. Ecco, in questa casa c'è la proporzione fatta per i bambini e poi c'è lo sguardo invece di chi è già più grande. Quindi quella foto più le reminiscenze di quell'altro libro, per dire, mi hanno dato quello spunto. Poteva anche essere una storia, appunto, di bambini che arrivano in un posto nuovo, scoprono questa sorta di casa dei giochi in fondo al giardino e se ne impossessano e poi succede qualcosa di drammatico, magari raccontato in modo più blando, in qualche modo si poteva. Ma mi interessava poter veramente anche usare il linguaggio che volevo, che è quindi un linguaggio un pochino alto, a qualche volta un pochino difficile, ma soprattutto che non fa sconti, ecco, che cerca di andare proprio a fondo, non sono, come hai detto, non sono racconti benevoli, ecco, sono racconti che pungono un po'. Io invece le chiedo, perché ha scelto di inserire prima dell'inizio del libro la frase di Josephine Johnson, ovvero Amore e paura crescono insieme con una precisione quasi matematica. Più grande l'amore, più grande la paura. Questa frase è stata l'ispirazione o l'ha trovata di seguito alla scrittura di questo libro? Essendo un libro di racconti, è un libro che è nato nel tempo, quindi i racconti non sono datati tutti allo stesso modo, alcuni sono, anzi, piuttosto vecchi, li avevo scritti una decina d'anni prima di mettere tutto insieme, altri sono venuti in strada facendo testimoniano anche di interessi diversi, che appunto alcuni sono ambientati nell'oggi, alcuni nel passato, no? Quella frase lì, in verità, l'ho incontrata traducendo il romanzo di Josephine Johnson da cui è tratta che si intitola Ora che è novembre ed è una storia, è la storia di queste tre sorelle, più famiglia, che si spostano da una città americana, una cittadina americana alla campagna, siamo, diciamo, dopo la prima guerra mondiale, più o meno, e il padre si reimpossessa di una proprietà che deve poi far fruttare, quindi è di fatto un contadino, è una famiglia di contadini, prima erano piccoli impiegati in città, lui era un piccolo impiegato, invece tornano alla terra. E le tre sorelle scoprono questa dimensione di vita durissima, perché quella è una campagna che non fa sconti, in cui c'è la siccità devastante, oppure piove troppo, i campi sono pieni di sassi, si ammalano le messi, quindi va tutto a rotoli e così via. Dunque padre e madre sono impegnati disperatamente a cercare di sopravvivere a tutto questo. Le figlie, che all'inizio sono ragazzine, poi diventano giovani donne, riescono a trovare un grande godimento, invece proprio nel legame con la natura, che è uno dei punti chiave della scrittura di Josephine Johnson, che è una scrittrice americana, che ha vinto il premio Pulitzer, uno dei più importanti americani, da giovanissima, è stata la più giovane a oggi persona a vincere il premio Pulitzer, aveva 25 anni, una cosa così, ed eravamo negli anni 30. Quindi, un libro che ho amato molto, un libro che parla di queste tre sorelle e dei legami fra loro, che poi a un certo punto si spezzano, si riannodano, insomma diventano molto complicati, e questa frase, in cui sono inciampata traducendo, mi è sembrata giusta per questa raccolta che intanto stavo mettendo insieme. Bisogna anche dire una cosa, che gli editori non amano i racconti, infatti in Italia non si pubblicano molti racconti, rispetto al resto del mondo. In Inghilterra, in Gran Bretagna, negli Stati Uniti, quasi sempre i racconti sono l'esordio dei giovani scrittori, che cominciano a scrivere neanche in forma di libro, ma pubblicando su riviste, o anche riviste online, molto prestigiose, oppure anche cartacee, e poi da lì a un certo punto, quindi mettono insieme a un gruppo, che viene pubblicato in forma di libro, e poi da lì fanno il salto e scrivono un romanzo. E sono quindi considerati un po' la presentazione in società, da noi invece sono considerati una sorta di sottogenere, per cui la gente non li legge, quindi anche presentare un libro di racconti è sempre un po' un azzardo a un editore, quindi sono molto contenta che Marsilio l'abbia scelto questo libro, perché non era affatto scontato. Però avevo un filo molto forte, che era parlare di bambini, e quindi ho infilato questi racconti, appunto nati strada facendo, su questo tema, e appunto il titolo mi è sembrato adattissimo, perché è il titolo dell'ultimo racconto, che poi è un romanzo breve, è un racconto lungo, si può chiamare come si vuole, che però in qualche modo unifica tutto quanto. Mi ricollego a quello che hai detto prima, che ha fatto l'esempio della casa dei giochi. Le storie all'interno di questo libro sono vere, quindi lei ha avuto la possibilità di avere interazioni e relazioni con i personaggi, oppure sono frutto della sua immaginazione? Direi che sono tutte inventate, salvo che poi è evidente che uno ci mette anche della realtà, nelle cose che scrive, questo vale quando scrivi per bambini come quando scrivi per tra grandi. Quindi per esempio, la bambina, Nina, la bambina più grande della paura, non sono io, però assomiglia a una certa me bambina, in una cosa in particolare, cioè in quella sorta di esposizione al male, che mi ricordo molto con grande precisione, perché una volta i bambini forse venivano protetti di meno rispetto all'abbombardamento dei media, adesso tendenzialmente la tv si guarda in modo controllato, non dappertutto, ma insomma. Una volta entravano i giornali in casa, erano lì, poi c'era il telegiornale, tutti guardavano il telegiornale, quindi io che avevo 8, 9, 10 anni, mi sono sentita rovesciare addosso queste storie di cronaca nera, orribili che avevano per vittime dei bambini, e in qualche modo sono rimaste lì, non me lo ricordavo neanche che erano rimaste lì, ecco, questa è una cosa vera, quindi da cui sono partita come spunto. Altre sono cose vere, però poi reinterpretate, riimmaginate, per esempio la storia di Allegra, Byron, che mi ha colpito molto quando ho scoperto che è appunto il grande, nobilissimo poeta, Byron, simbolo del romanticismo, aveva avuto questa bambina in modo casuale, lui era un rubacuori, quindi un donnaiolo impenitente, Clermont gli si era di fatto offerta, loro vivevano in questo ambiente un po' bohemian, in cui appunto, nonostante fossimo all'inizio dell'Ottocento, in Inghilterra il libero amore veniva praticato con grande slancio e quindi c'erano delle coppie molto fluide che si ricomponevano e così via, quindi lei aspetta questo bimbo, lui forse nemmeno lo sa all'inizio, tutto torna a galla quando la bimba è nata, intanto cresce, a un certo punto lui entra in scena e se la vuole riprendere, e questo è il dato storico. E se la riprende, perché i figli all'epoca erano proprietà dei padri, le madri non avevano diritti, non avevano nessun diritto in quanto donne di ereditare, e così via, il voto arriva molto tempo dopo, arriva un secolo dopo, ma non avevano nemmeno il diritto appunto di rivendicare la loro maternità sui figli. Quindi questa bimba viene presa come un pacco, lei era cresciuta appunto in casa Shelley, poi con Percy Shelley e Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein, che stavano insieme, insomma, e avevano a loro volta dei figli, poi alcuni sono morti, insomma, i bambini allora, era un miracolo se sopravvivevano ai primi anni di vita. E proprio Shelley si prende in carico di accompagnare questa bimba a incontrare il padre, consegnarla al padre. Il padre la tiene un po' a Venezia, la ostenta come una bambola, la veste di fiocchi, di seta, così via, è un grazioso animaletto nel suo salotto, dopo quando si stufa, lui intanto ha un'altra amante, insomma, ovviamente una delle tante, cosa fa? La spedisce in un collegio, in un convento, che di fatto è un collegio, dove questa bimba poi prende una malattia, anche lì appunto, ha una sopravvivenza difficile, muore. E poi viene appunto ritrasportata e sepolta apparentemente, o forse anche no, in patria, cioè in Inghilterra. Quindi io mi sono immaginata questo passaggio a partire da una storia vera. E questa era una storia che si poteva anche raccontare per bambini, magari senza indulgere troppo in certi dettagli, però vedere dal punto di vista di una bimba sballottata, volendo. Però anche questa ha preso un'altra strada. Ovviamente scrivere per adulti vuol dire essere molto più liberi. Ecco, io lì ho poi un po' giocato sull'equivoco, perché all'inizio sembra che si parli di una bambina che sta facendo un viaggio, si capisce soltanto alla fine, che tipo di viaggio sta facendo. Almeno quello era il mio intento, spero di essere, di aver passato la cosa. Quindi alla fine è anche un racconto nero, un po' gotico. Ecco, però era proprio... E fra l'altro sono anni che cerco, e poi non ci riesco mai, di passare in questo posto dove lei è stata, che è a Pomposa, quindi vicino a Ravenna. Peraltro non c'è più, forse è ricordata da una lapide o una cosa del genere, non c'è più niente di allora, ma è solo per l'idea di rivedere il posto dove ha vissuto un pochino prima di morire. Grazie. Nel corso di una storia, quando parla della bambina, della principessa, lei usa l'espressione tenera tirannia. Che cosa significa veramente questa espressione? Beh, allora, questo racconto è basato su un rapporto di forza molto teso fra un padre che cerca di compiacere la figlia perché ha troppo poco di lei, perché lei è a sua disposizione troppo poco e appunto questa bambina che approfitta della situazione. Quindi la tenera tirannia è esattamente questo, cioè il potere che lei sente di avere su di lui e che esercita come fanno i bambini manifestandolo in tanti modi diversi, facendosi comprare delle cose, facendo dei piccoli ricatti, facendo dei capricci. Questa è una storia molto realistica se vogliamo, però questa per esempio non è ispirata a niente che io abbia visto, mentre a volte ci sono delle storie che nascono da piccole schegge di cose viste, cose ascoltate, cose osservate, cose lette. Era semplicemente che mi andava di raccontare questo legame fra un papà che si sente inadempiente e di conseguenza diventa schiavo e una bambina tiranna che appunto usa tutte le proprie armi per volgere a sé il vantaggio di questa giornata lunga, piena di libertà, anche un po' inconsulta e di cose che altrimenti non le sarebbe permesso di fare. Le chiedo una cosa, ricollegandomi a poco fa che ha parlato appunto di Allegra, le volevo chiedere per quale motivo ha deciso di inserire la sua storia, quindi la storia di Allegra che è ambientata nel 1822 in un contesto di storie che comunque risulta essere più vicino a noi, più attuale? Certo, quello che lega la storia di Allegra alle altre è proprio il fatto che al centro c'è un bambino e c'è un bambino non proprio felice, ecco, nessuno dei bambini di questa storia è felice, forse la più felice alla fine è Nina perché ha un suo equilibrio, trova un suo equilibrio anche in tutti questi drammi che le pesano addosso e soprattutto ha questa sorta di portale che la conduce al di là e quindi riesce a immaginarsi di essere in qualche modo salvata, salvata dalla concretezza del presente, dalla concretezza nera, brutta, proprio dai suoi eroi. poi è vero che questo non succederà perché sono eroi immaginari quindi svaporano, svaniscono però lei insomma è anche molto lucida insomma sa controllare la realtà gli altri sono tutti più succubi più dipendenti dagli adulti compresa Allegra e quindi secondo me ci stava proprio per differenza proprio perché le altre sono storie più vicine cioè al massimo andiamo appunto nella seconda guerra mondiale con la casa dei giochi se no sono storie più o meno contemporanee ma mi piaceva intanto appunto mi interessava moltissimo io la storia dell'Eggra non la conoscevo forse avevo letto una riga o due in qualche biografia ma l'ho scoperta meglio leggendo questi tutta una serie di libri ma in particolare uno molto bello è uno studio che si intitola Young Romantics di una studiosa inglese che parla proprio di questi giovani romantici quindi questa con temperie di poeti e scrittori tutti vissuti e operanti all'inizio dell'Ottocento in Inghilterra o dall'Inghilterra moltissimi poi appunto viaggiavano e moltissimi sono finiti in Italia quindi casualmente però lì ho approfondito e ho saputo meglio anche della storia di Claire della sua sorella Astra appunto Mary Shelley di questa piccola comunità sicuramente illuminata in cui poi facevano questi giochi intellettuali così che poi però doveva scendere a patti con la realtà appunto Mary Shelley come accennavo prima ha perso parecchi bambini ci sono anche degli episodi misteriosi legati a un certo punto vanno a Napoli erano sempre in viaggio questi giovani romantici erano sempre in carrozza sopra un asino qualche volta a piedi viaggiavano come dei forsennati e ci immaginiamo come dovesse essere complesso viaggiare in quell'epoca invece evidentemente non lo era perché saltavano su e giù come se niente fosse partivano e a un certo punto arrivano anche a Napoli e lì c'è un piccolo mistero perché c'è una bambina appunto di casa che muore ma forse c'è anche un altro bambino cioè io mi sono fatta l'idea da quelle cose lette che forse Shelley abbia avuto una storia con qualcuno abbia avuto una bambina a Napoli quindi insomma a furia di libero amore era tutto molto complesso e anche molto gravoso però appunto volevo dare anche conto di questo momento della storia in cui i bambini erano di fatto come dei pacchi cioè erano delle proprietà tanto soprattutto nel mondo inglese diciamo nella upper middle class quindi nel mondo nobile o intellettuale o anche semplicemente borghese ricco i bambini non esistevano finché non passavano una certa soglia stavano nella nursery qualcuno si occupava di loro non si dovevano vedere né sentire venivano portati tutti i vestiti eleganti a salutare e poi risparivano magari abbracciavano la mamma cinque minuti al giorno il padre nemmeno sapeva che c'erano ecco anche dare conto di come è cambiato il posto del bambino nel mondo adesso questo è un mondo che i bambini li adora anche perché sono sempre meno quindi il bambino figlio unico dentro la famiglia diventa un piccolo tiranno un tenero tiranno per forza perché tutti lo coprono di regali di insomma di oggetti più che altro e magari non di attenzioni però insomma non è che nel passato fosse tanto diverso ecco volevo raccontare quello adesso sentiamo se c'è qualche domanda dal pubblico buonasera io volevo chiederle riguardo la produzione di questi racconti nel tempo lei ha detto che alcuni sono nati molto tempo fa volevo chiederle quando ha capito che potevano essere collegati tra loro per riunirli in un'unica raccolta e appunto nel tempo quando quando li ha prodotti sì appunto il primo è nato ma anche forse più di dieci anni fa è quello della colonia lo striglio quello perché quello è nato dalla visione di un posto che è una colonia abbandonata a Milano Marittima che sembra proprio una specie di uno scheletro lo scheletro di un animale preistorico bucherellato dall'aria e dal tempo e gli altri sono venuti in strada facendo appunto senza un reale intento penso che sia molto importante dire una cosa cioè che non sempre uno scrive con uno scopo preciso cioè è chiaro che se stai come dire se ti viene l'idea di un romanzo cominci e poi cerchi di darti dei tempi e di seguire anche la appunto lo strappo che ti costringe in qualche modo ad andare avanti a far vivere i personaggi e far succedere delle cose i racconti hanno di buono che sono molto più circoscritti quindi tendenzialmente quando li cominci li finisci o poco dopo poi magari ci torni sopra tante volte lì mi butti via butti tantissimo via io butto tantissimo via però è così è chiaro che mi sono esattamente come quando avevo 15-16 anni e scrivevo tanto e mi sono resa conto che scrivevo sempre storie con dei bambini dentro e quindi forse dovevo scrivere dei libri per bambini in questo caso andando avanti aggiungendo aggiungendo mi sono resa conto che tutti questi racconti quelli insomma fatti erano 4-5-6 avevano un bambino dentro quindi assumevano una voce da adulto ad adulto però avevano un bambino dentro quindi in quel momento ed è stato questo è uscito 2-3 anni fa diciamo forse 5 anni fa mi sono resa conto che avevo già un piccolo nucleo e quindi a quel punto l'ho semplicemente completato con un paio di altre cose che mi sono venute in mente però appunto è un libro con una storia un po' anomala di solito quando cominci a scrivere un romanzo quello è l'obiettivo magari ci metti anche un sacco di tempo io ci ho messo 10 anni a scrivere il mio romanzo per grandi più diciamo serio che si intitola tentativi di botanica degli affetti ovviamente facendo in mezzo anche altre cose però avevo tornavo sempre lì e quello poi essendo un romanzo storico mi ha richiesto anche un sacco di approfondimenti di altre letture di altri percorsi quindi era anche bello sapere che leggevo delle cose per tornare lì poi non avevo non so come dire la fretta ecco una cosa che uno scrittore non dovrebbe avere mai è l'ansia e la fretta di finire di consegnare pubblicare ecco bisogna che quello che stai facendo sia arrivi a compimento come si deve allora oggi cioè adesso volevamo chiederle voglio fare una domanda sul suo lavoro in buon piani invece perché oggi si trova a leggere appunto moltissimi libri inediti e magari qui tra di noi ci sono dei ragazzi che cominciano a scrivere qualcosa comunque hanno intenzione di scrivere e quindi volevamo chiederle che cosa funziona oggi in un libro e che cioè che cosa consiglia a un ragazzo che vuole appunto mandare il suo manoscritto a una casa editrice certo allora questa domandona importante io credo che parto dalla seconda se uno ha già scritto qualcosa che sia appunto un mazzetto di racconti che di solito servono più per presentazione che altro oppure anche un romanzo deve essere un po' consapevole di che cosa c'è sul mercato nel senso di cosa fanno le varie case editrici in modo da poter mandare il suo libro a quella o quelle più giuste cioè non a tappeto ma scegliendo guardando che cosa pubblicano che tipo di libri pubblicano più letterari più commerciali di genere dipende anche da quello che uno scrive naturalmente quindi quello è il passo più importante poi chi manda un manoscritto si chiama ancora un manoscritto a una casa editrice deve anche disporsi a dei tempi di attesa piuttosto lunghi perché dentro le case editrici si dà un'occhiata a tutto quello che arriva poi si procede a leggere in modo approfondito quello che dalle prime pagine risulta interessante si fa leggere a dei lettori professionisti diciamo ma noi stessi siamo tutti dei lettori dentro la casa editrice gli editor così via fanno precisamente quello poi quando un libro appunto rivela un bagliore quindi sembra interessante si va avanti e magari si legge in due in tre si decide insieme se è il caso di pubblicarlo ecco molti libri arrivano attraverso agenti letterari anche di esordienti perché molto spesso gli esordienti vengono dalle scuole di scrittura cioè ci sono anche quelli che scrivono a casa loro e basta e io lo trovo giustissimo e nobilissimo io non ho frequentato scuole di scrittura anche perché non c'erano quando io ero una ragazza adesso c'è la scuola a Holden c'è Belvilla a Milano ce ne sono tante che fanno corsi online insomma uno può avvicinarsi a prendere le tecniche approfondire e così via e molto spesso appunto diciamo gli esordienti promettenti vengono intercettati dagli agenti letterari che fanno da tramite poi che sono loro che propongono alle case editrici già alla fine dei loro corsi ci sono proprio dei momenti in cui ciascuno legge qualche pagina del suo libro e lo racconta allora gli agenti vanno là e dicono aspetta abbiamo visto questo questo quest'altro per esempio proprio in questo primo spicchio dell'anno sono usciti due libri che sono tutte e due di due ragazze esordienti che hanno fatto tutte e due la scuola Holden di Torino uno l'abbiamo pubblicato noi si intitola Uva Spina e lei si chiama Monica Acito e adesso è uscita un'altra ragazza che era proprio sua compagna che si chiama Beatrice Salvioni il libro si intitola La malnata ed è uscito per Einaudi e sono praticamente due frutti dello stesso corso tutti e due guarda caso vabbè quello è veramente un caso rappresentati dalla stessa agente letteraria che è una signora che fra l'altro vive a Torino che si chiama Carmen Prestia io non so se consigliarvi a un certo punto a chi di voi scrive di cercarvi un agente letterario perché gli agenti letterari sono estremamente difficili da acchiappare o sono loro che si muovono se no tu mandi le tue cose da leggere magari ti leggono magari ce n'è anche uno che si accende di passione e decide di rappresentarti ma più che altro appunto si rivolgono a qualcuno che ha già fatto da filtro per loro tipo alle scuole cose di questo genere e poi da persona dall'altra parte della barricata cioè da editor da editore che poi libri pubblica francamente io preferisco avere una relazione diretta con gli autori che non sia filtrata dalla presenza di un agente letterario cosa fa l'agente letterario essenzialmente tratta la parte economica che è molto importante naturalmente poi si occupa di tutta la burocrazia il contratto e così via ovviamente per un compenso quindi prende il 10 il 15% il solito il 15% del compenso pattuito dell'anticipo che viene versato alla firma di un contratto che è sempre il primo diciamo soldino che uno vede e poi naturalmente anche sui diritti maturati via via che naturalmente il libro vende o anche sulle vendite all'estero le vendite dei diritti cinematografici di cui si occupa in prima persona però anche dentro le case editrici c'è un ufficio che si chiama ufficio diritti che fa la stessa cosa per dire qualche anno fa abbiamo pubblicato un libro di una esordiente torinese che si chiama Marta Barone che non ha fatto scuole di scrittura il suo libro si intitola Città sommersa io l'avevo conosciuta da scrittrice per ragazzi quindi avevo già pubblicato un suo libro per ragazzi anzi due e poi l'ho ritrovata cresciuta diciamo con questo libro che parla della storia di suo padre che era un medico implicato nel terrorismo a Torino negli anni non solo a Roma a Torino insomma negli anni di piombo quindi che si è fatto anni di carcere poi è stato scagionato ma intanto il carcere se l'è fatto e tutto questo ovviamente ha cambiato la sua vita ed è la relazione con lei perché lei non è mai vissuta con lui e quindi l'ha un po' scoperto diciamo dopo che lui non c'era più dopo che lui è morto ecco con lei c'è una relazione diretta quindi è la casa editrice che poi amministra i suoi diritti e dunque la mia collega che lavora sull'estero ha venduto i diritti in 7-8 paesi quindi è stato pubblicato in Francia in Inghilterra in Germania e così via e in quel caso i diritti vengono divisi fra la casa editrice e l'autore giusto per spiegare un pochino meglio anche come funziona appunto l'anticipo è diciamo il primo denaro che un autore vede poi scattano le royalties cioè i diritti d'autore che possono essere dal 5% sul prezzo di copertina questo di solito per i libri tascabili o per gli esordienti insomma all'inizio è abbastanza basso poi 7-8-10 gli autori più importanti prendono il 15% sul prezzo di copertina quindi immaginiamo che un libro sia abbastanza grosso non so che costi quindi 20 euro naturalmente questo cosa vuol dire che uno prende se non calcolo bene 3 euro per ogni copia venduta il 10% più il 5% ecco con 3 euro per copia venduta insomma se vendi tante copie guadagni tanto ecco naturalmente nel momento in cui tu hai coperto l'anticipo parte il conteggio e quindi ti vengono versati gli altri denari tuoi giusto anche per avere un aspetto un po' tecnico che magari a qualcuno interessa per caso ci sono domande dal pubblico sì allora Dottuka ha tradotto anche i libri di Harry Potter volevamo chiedere cioè quale fosse la storia a cui è più legata all'interno del libro sì il mio libro preferito di Harry Potter e il numero 3 perché è anche stato il primo che ho tradotto quindi Prigioniero di Azkaban la ragione è il fatto che cambia registro nel senso che i primi due sono proprio libri per ragazzi nel terzo si incubiscono le atmosfere i personaggi sono più complessi entrano in scena alcuni personaggi nuovi insomma è come se i primi due servissero un po' per dare il quadro della situazione e poi si accelera ieri sera facevamo con un mio ex collega abbiamo fatto una lezione online appunto di scrittura alla scuola Belleville di scrittura per ragazzi e parlavamo proprio di Harry Potter e lui sostiene lui si chiama Giordano Aterini lavora alla Mondadori e sostiene che che in realtà non so è un'attesa interessante Harry Potter è un libro middle grade cioè per ragazzi delle medie anche quando Harry Potter e tutti crescono resta un libro per ragazzi delle medie cioè come tipo di struttura di storia così via è come se loro fossero crescessero mentalmente fisicamente ma restassero nelle dinamiche ed è una tesi interessante provate a pensarci voi lettori di Harry Potter mi collego alla domanda del pubblico a questo punto perché sappiamo che lei ha trotto Harry Potter e volevamo chiederle come ci fosse arrivata e se questa esperienza fosse stata effettivamente accattivante per lei e quindi adesso mi collego con un altro quesito nasce prima la Beatrice Masini traduttrice o scrittrice? Allora di solito le traduzioni ti vengono richieste assegnate diciamo quindi ricevi una telefonata un messaggio in cui ti chiedono se vuoi tradurre quel libro entro quel tale termine quello è molto importante perché ci sono dei tempi di lavoro che poi implicano dei tempi di consegna che implicano dei tempi di uscita ed è molto importante che un traduttore lo sappia perché se non deve dire di sì o di no in base al tempo che ha quindi Harry Potter è arrivato il terzo suppongo che la traduttrice i primi due non potesse per qualche ragione magari aveva preso degli altri lavori andare avanti quindi a un certo punto hanno cambiato e dopo ce ne siamo rimasti fino al settimo dunque tu consideri tutto consideri anche la difficoltà lo stile e così via non solo i tempi e poi dici di sì o dici di no io avevo già letto Harry Potter 1 e 2 l'1 in italiano il 2 in inglese per non aspettare la traduzione poi perché tanto insomma facevo più in fretta e mi erano piaciuti molto quindi quando mi è stato offerto ho detto subito di sì però sicuramente nasce prima la scrittrice la traduzione è una forma di scrittura io ho cominciato a tradurre molto presto per conto mio proprio per vedere come suonavano le cose che mi piacevano molto presto vuol dire attorno ai 18 19 anni cioè senza nessuno scopo concreto però non ho fatto corsi specifici sempre perché non c'erano tanto cioè c'erano dei corsi per traduttori e interpreti ma più orientati verso gli interpreti il traduttore letterario era una figura un po' improvvisata anche i grandi scrittori che sono stati traduttori Pavese Montale Vettorini non è che traducessero proprio cioè traducevano un po' all'impronta non avevano neanche tanti strumenti magari durante la guerra c'era un vocabolario solo quindi a volte facevano anche degli errori oggettivamente quindi ci sono delle traduzioni che magari sono belle dal punto di vista linguistico ma non sono correttissime perché ho detto questa cosa questa deviazione no degli traduttori appunto del provare ma il mio non era uno scopo preciso era proprio per vedere come non sapevo neanche se avrei poi fatto quella cosa lì invece poi da una cosa è nata all'altra ho cominciato a tradurre libri per bambini che insomma è un pochino meno pericoloso quanto meno perché sono più brevi e poi sono andata avanti oggi se sento che mi fa bene tradurre anche perché avendo tantissime cose da fare appunto per Bonpiani scrivere che richiede una concentrazione anche una apertura mentale diversa non è che mi riesca sempre facilissimo invece tradurre tu puoi tradurre dieci pagine quindici pagine esci dalla tua quotidianità entri in un altro mondo che è un mondo di parole di atmosfere di stile e così via ed è una bella evasione che si può tenere in parallelo quindi è raro che io non abbia qualcosa a tradurre adesso non sto traducendo niente ma ho già un libro che so che tradurrò a un certo punto ecco ma le due cose vanno molto insieme perché per me tradurre è cominciato anche come un esercizio di scrittura cioè mi sono resa conto che poteva essermi molto utile poi è diventato anche un pezzo di lavoro conoscendo la saga di harry potter così da vicino quale pensa che sia il segreto di tanto successo allora io dubito ormai di conoscerla così da vicino perché mi sono dimenticata tutto però è vero che insomma tradurre ti consente un ingresso da una porta laterale però che ti dà gli scorci interessanti io mi sono fatta l'idea che in quel momento ci fosse bisogno di fantasy perché poi i generi si alternano sono continuamente di moda e non di moda a rotazione e quindi c'era forse bisogno di questo tipo di evasione e lei la Rowling è riuscita a intercettarlo al momento giusto mettendo a servizio di questo genere anche le sue immense conoscenze della della tradizione anche del folklore ma della tradizione epica inglese ma di tutto il nord Europa in qualche modo quindi ha fatto questo lavoro di mescolanza molto interessante e poi certamente il fatto che Harry Potter è abbastanza normale cioè sì è un mago però alla fine è un ragazzino solo che deve superare un sacco di ostacoli che ci riesce solo nel momento in cui riesce a uscire da sé anche dal proprio incubo personale e a mettersi insieme agli altri quindi ad avere degli amici dei legami e questo è un messaggio molto semplice molto largo che forse spiega anche la la dimensione globale del successo anche in paesi molto lontani culturalmente ecco da quel mondo che viene evocato ora le faccio una domanda che abbiamo posto anche a Nicola Cinguetti nel nostro incontro precedente ossia secondo lei ci sono differenze tra la letteratura per gli adulti e quella per i ragazzi per l'infanzia e sono quindi categorie separate o possono avere affinità tra loro certamente ci sono dei libri che travalicano i confini che stanno un po' in mezzo quindi possono essere poi presi in prestito da una parte o dall'altra dal punto di vista di chi scrive è la stessa cosa cioè c'è lo stesso tipo di slancio di attenzione di desiderio di concentrazione di insomma l'attitudine è uguale c'è una storia ti si materializza davanti a una storia uno spunto un'idea una frase un giro di frase e vai avanti quindi non è diverso nella considerazione del resto del mondo un pochino diverso lo è perché è un po' un ritornello anche stanco però è vero che un po' la letteratura per ragazzi si considera ancora la cenerentola ecco cioè qualcosa di minore non è minore perché comunque i primi libri che leggiamo sono importanti ci segnano li portiamo con noi per tutta la vita tanti altri ce li dimentichiamo ma quelli lì no e quindi secondo me ha lo stesso valore da un punto di vista bieco cioè quello del mercato di nuovo ha addirittura più valore dell'altra nel senso che i libri per bambini e per ragazzi anche in anni di grossa crisi del resto dell'editoria hanno continuato ad andare sempre bene e sempre meglio quindi creando anche posti di lavoro opportunità questo anche appunto dal punto di vista delle redazioni e così via e spazio per scrittori anche italiani una volta vent'anni fa venticinque anni fa la maggior parte dei libri per ragazzi erano tradotti dal resto del mondo adesso ci sono tanti autori italiani che stanno alla pari idem per gli illustratori domanda sì grazie si sente va bene ok sì no io volevo chiederle questa cosa allora prima cosa per entrare nel mondo dell'editoria come si fa e seconda cosa non so lei come scrittrice poi ha il suo modo il suo stile evidentemente ha trovato un suo modo di scrivere trovarsi a fare da traduttrice per cui dover servire al testo di un altro cioè cosa cosa succede e soprattutto altra cosa lei come si è cosa ha studiato ha detto che hanno fatto coro sì ma grazie allora facciamo prima la 1 e la 3 e poi la 2 te insieme allora come si fa oggi appunto così come ci sono i corsi di scrittura ci sono anche un sacco di master o di corsi di specializzazione che ti insegnano per esempio a lavorare in redazione o ti spiegano com'è tutta la macchina ce n'è uno all'università cattolica ce n'è uno a Bologna che è stato fondato da Umberto Eco ed è biennale insomma ce n'è un po' ce n'è a Roma ce n'è nel resto d'Italia anche questi a volte sono corsi online quindi insomma si può apprendere molti di questi corsi o master hanno poi come secondo passo uno stage dentro una casa editrice che può essere di tre mesi quattro sei mesi così via di solito non pagato perché le case editrici sono notoriamente povere però ecco quello è oggi è l'ingresso più semplice anche da noi arrivano tanti stagisti noi cerchiamo di ospitarne il numero più alto possibile anche perché sulla quantità magari qualcuno poi sbucca c'è anche chi si rende conto che non è il suo lavoro semplicemente o ce ne rendiamo noi conto poi ognuno fa i conti con i propri desideri aspirazioni slanci ma magari uno fa uno stage qui e poi forte anche del fatto di poterlo mettere in curriculum trova un posto altrove poi i mestieri dell'editoria sono tantissimi perché qui abbiamo parlato rapidissimamente di quello che succede in una redazione ci sono i redattori che armeggiano attorno ai libri gli editor che li scelgono e poi c'è una persona che coordina tutto quanto i capi redattori che stanno in mezzo e quindi hanno un compito di smistamento delle cose che vanno e vengono le bozze le traduzioni i tempi i calendari c'è la parte tecnica cioè ci sono le persone che ordinano la carta che si occupano della fisicità dei libri oppure si inventano nuovi formati studiano copertine diverse poi ci sono i grafici di solito sono esterni qualche casa editrice ce li ha anche interni gli art director che progettano la visione e quindi l'immagine della casa editrice quindi di mestieri ce n'è tantissimi e di solito appunto questi stage questi master sono interessanti proprio perché mostrano tutto poi c'è la parte dei diritti appunto fare i contratti noiosissimo ma insomma a qualcuno piace stare dietro a quelle cose lì a come devono essere pagati gli autori eccetera io ho fatto il mio percorso è un po' appunto di quelli di una volta proprio perché non c'erano delle delle formule però io ho fatto il liceo classico lettere classiche poi ho fatto la giornalista per una decina d'anni e poi quando il giornale in cui lavoravo ha chiuso intanto collaboravo già con varie case editrici come traduttrice scrivevo delle piccole storie perché mi interessava il mondo dei libri per ragazzi e poi mi sono ho cominciato da redattrice proprio passo anzi da esterna collaboratrice poi redattrice poi editor poi responsabile editoriale e poi insomma da lì ecco è un mondo in cui questo percorso si può fare cioè tu puoi partire io non avevo parenti scrittori o parenti già nel mondo dell'editoria cioè quello che si dice un homo novus nel mondo latino assolutamente partivo con me stessa i miei studi però appunto si può fare insomma avere una bella storia e fare tante cose diverse invece tra traduttrice e scrittrice beh è come se uno chiudesse una porta e ne aprisse un'altra in realtà quando sei dentro un libro sei a servizio di quello stile poi magari ci metti la tua conoscenza della tua lingua che è la cosa fondamentale per un traduttore ancora più importante che saper bene la lingua da cui si parte e conoscere le sfumature e le possibilità della propria perché se una parola non la sai non è che io ci sono ancora delle parole d'inglese che non magari non ho mai sentito magari sono auliche arcaiche ma le puoi sempre cercare puoi approfondire capire il contesto se però poi non trovi il corrispondente o ti accontenti del primo della prima buona la prima qualcosa non funziona e a volte lo sentiamo quando leggiamo le traduzioni no? se sono fatte bene oppure male se ci affatica a leggere non riusciamo ad andare avanti magari non è la storia che non funziona è anche lo stile ecco quindi sicuramente da scrittore la cosa più importante è trovare la propria voce quando traduci la voce c'è già quindi non devi fare neanche quella fatica lì e devo dire che più un libro è ben scritto ben fatto scritto da uno scrittore consapevole delle proprie armi più facile è tradurlo perché la voce è già lì devi solo magari metterti appunto intonarti ecco in qualche modo accordarti con quella voce trovare la chiave e dopo però vai mentre se un libro è scritto un po' così magari anche per esempio i thriller a me piacciono molto ne ho anche tradotti così mi piace leggerli spesso non sono scritti bene perché è più importante il plot la trama che non quando sono scritti non bene è molto faticoso renderli cioè rendere la fluidità che è necessaria perché comunque devono essere dei libri con un passo veloce e ci devi mettere più paradossalmente più impegno che non a tradurre magari un autore estremamente sofisticato che però ha appunto una sua poetica chiara e quando l'hai capita ci sei dentro adesso per chiudere volevamo chiederle come in ogni incontro un consiglio di lettura allora vi consiglio un libro che è uscito da un mesetto che si intitola La mia Monticello e l'autrice si chiama Jocelyn Nicole Johnson e l'abbiamo pubblicato noi di Bonpiani ed è un esordiente di 50 anni quindi un'anomalia ecco ha cominciato a scrivere a scrivere racconti poi ha scritto questo che è una raccolta di alcuni racconti più un romanzo breve un po' come più grande la paura La mia Monticello è il romanzo breve ed è ambientato Monticello a noi ricorda appunto Ilari Colline in realtà era la casa di Jefferson la tenuta di Jefferson terzo presidente americano estensore della dichiarazione di indipendenza quindi uno dei padri dell'America ma schiavista aveva 600 schiavi che lavoravano per lui in questa tenuta in Virginia la scrittrice si immagina che ci sia lì a Charlottesville poco lontano una moto di suprematisti bianchi che cominciano a cacciare di casa i neri dalle loro case quindi a respingerli a cacciarli via con incendi atti vandalici omicidi e qui c'è questo gruppo di neri di varie età che prendono un vecchio bus e riescono a scappare e si insediano a Monticello che oggi è una casa museo da visitare e così via con fare il tour dove c'erano gli schiavi dove studiava Jefferson dove scriveva Jefferson quindi si riappropriano di questo luogo in cui poi scopriremo che la protagonista la voce narrante è una discendente di Jefferson perché lui ha avuto una moglie bianca e dei figli e poi ha avuto un'amante nera da cui ha avuto degli altri figli alcuni dei quali erano così pallidi che si sono confusi con dei bianchi quindi sono spariti dalla circolazione diciamo integrandosi in quel modo lì e quindi c'è questa voce narrante che è la ragazza che poi prende un po' la guida di questo manipolo di rifugiati e però si sa che i suprematisti bianchi arriveranno che quindi cingeranno da sedio questo posto quindi è un libro che chiaramente parla di Black Lives Matter insomma di temi molto caldi però ne parla in un modo secondo me magnifico non pretestuoso non cronachistico ma veramente letterario questo è il mio consiglio bene grazie mille chiudiamo qui l'incontro un applauso molto velozissimo grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi grazie a voi